Sono andati avanti tutto il giorno le ricerche di un uomo che ha tentato di sfuggire ad un controllo della polizia stradale tuffandosi nel Brenta alle prime ore di oggi. I vigili del fuoco hanno scandagliato per ore il tratto di fiume che si trova tra San Vito e il comune di Vigonza dietro la zona industriale. Oltre alla barca con il sonar in dotazione ai pompieri padovani, sono stati utilizzati anche i gruppi cinofili, l'elicottero e i droni dell'uomo però. Non c'è ancora traccia? Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una persona che ha tentato di sfuggire a un controllo della polizia stradale dopo essere stato sorpreso in atteggiamenti sospetti insieme ad un complice vicino ad un mezzo pesante fermo nella vicina zona industriale. Alla vista della pattuglia della polizia stradale i due si sono dati alla fuga. Uno è scappato lungo l'argine che costeggia il Brenta mentre l'altro ha cercato di raggiungere l'altra riva del fiume tuffandosi nell'acqua scomparendo nel nulla. Per il momento non è ancora stato ritrovato nessuno.